Il 28 settembre, dalle 17 in poi, a Castrovillari, ci sarà l'inaugurazione del centro nuoto Atlantis. Mi raccomando, vi aspetto in tanti, perché ci sarà tantissimo divertimento. Un abbraccio a tutti. E sarà il campione olimpico di pallanuoto, nonché allenatore della squadra maschile Rari Nantes di Crotone, a Mauriz Perez, ad inaugurare venerdì 28 settembre, alle ore 17, a Castrovillari, il nuovo centro nuoto Atlantis. La nuova realtà dei fratelli Giorgio, situata a nord della città del Pollino, in corso Calabria 123, è un impianto dotato di una vasca semiolimpionica coperta. C'è grande soddisfazione da parte dei fratelli Giorgio per essere riusciti in questa, che sembrava una vera e propria impresa, superando difficoltà burocratiche e meteo. La struttura riuscirà a rispondere alle esigenze e alle aspettative dei cittadini di Castrovillari e del comprensorio. Nota importante, durante i corsi che partiranno il prossimo 1 ottobre, saranno effettuate selezioni per il nuoto agonistico. Siete tutti invitati!